Al parco Piacenza di Biella, famoso per la fioritura dei rododendri, sbocciano oggi i modelli d'alta moda della prossima stagione invernale. Un guardaroba non è cosa che si improvvisi, per questo le indossatrici sono solite rabbrividire nel duro compito di presentare gli abitini d'estate quando ancora la neve pavimenta le strade, ora sudano sotto cappellini di pelliccia e cappottoni di lana mentre l'estate spreme raggi di sole sul nostro settembre. Duro mestiere alle sfilate, duro quanto quello di chi dovrà poi far entrare negli abiti da vespa le grassone da conto in banca.